ciao a tutti i ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono john red e oggi parliamo del grande fratello vip vediamo chi è stato eliminato è appena andato in onda una nuova puntata del grande fratello vip e in questa puntata abbiamo visto il risultato del televoto infatti uno dei momenti più attesi è stato il risultato del televoto tre i vip a rischio eliminazione ed erano davide che si è portato a casa il 29 per cento del consenso del pubblico jessica invence il 46 e miriana il 25 e proprio quest'ultima come avrete già capito è stata l'eliminata di ieri sera quest'ultima prima di abbandonare la casa ha abbracciato suo figlio e voi siete d'accordo con il risultato del televoto scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento concluso il video se vi va iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da john red un grosso abbraccio da john red